La Regione, allora quando in una trasmissione televisiva il Presidente Procetta, è per dire che aveva risolto il problema delle province. Le province sono in mezza passata, ancora oggi siamo costretti a fare sciopera perché non hanno nessuna certezza di niente. Il grande malcontento della Polizia Municipale di Palermo, che ormai è arrivata al limite per quanto riguarda l'operatività. I colleghi sono eccessivamente stressati, considerate che abbiamo un'età media di 53 anni, che ci sono solo mille persone circa che già hanno passato la soglia dei 50 anni, un altro 350 circa l'età di 60 anni e solo il 27% del corpo è sotto i 50 anni. Capirete bene che lo stress di questo servizio per strada ha portato oggi a questa assemblea perché i colleghi non ne possono più. Mancano i mezzi, mancano le strutture, l'organizzazione della Polizia Municipale è tutta da rifare e in più il contratto decentrato ancora langue e i soldi del 208 che aspettavano i colleghi per avere un minimo di ristoro sia per quanto riguarda lo straordinario ma principalmente per l'acquisto dei mezzi che servono per il lavoro ancora ritarda.